ciao benvenute e benvenuti a questo nuovo tutorial oggi vedremo come gestire file complessi all'interno di autocad per file complessi intendo un file contenente è un grande numero di layer come vedete in questo caso questa qui è una ctr una carta tecnica regionale che ha decine e decine di layer come gestire un numero elevato di layer noi per complicarci un po la vita andremo ad inserire all'interno di quella ctr un progetto questo qui che vedete che anche lui naturalmente ha i suoi layer e poi ancora andremo ad inserire la carta la carta del sole diagramma polare con ulteriori layer come faccio a gestire però tutti questi layer anche di natura diversa c'è da provenienti da elaborati diversi all'interno di un file di autocad in realtà non è così difficile ci sono degli strumenti che permettono la gestione semplificata di questi layer uno di tutti naturalmente è il comando è il motore di ricerca all'interno di proprietà dei layer qui posso cercare tramite delle lettere nelle parole i layer all'interno del mio del mio file uno poi invece quello che andremo ad approfondire è l'oggetto anzi la funzione filtro 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 proprietà non è altro che un vero e proprio filtro che tramite delle caratteristiche posso andare a creare delle categorie di filtri ad esempio delle categorie di layer scusa ad esempio tramite delle lettere in parole oppure tramite dei colori ad esempio posso impostare che tutti i layer di color rosso facciano parte di questo filtro qui oppure della trasparenza io ad esempio siccome ho l'intenzione di rendere trasparente la mia ctr vado a dire che tutti i layer con trasparenza 50 vado a finire all'interno di questo filtro perché io voglio poi far risaltare una volta esportata in pdf voglio far risaltare la carta del sole e il progetto mentre tutto il resto c'è la ctr la voglio più chiara quindi cosa vado a fare? vado a selezionare vado a mettere come layer corrente quello dell'8 vado poi a fare il tasto destro e faccio seleziona tutto tranne il layer corrente vedete che seleziona tutto tranne l'8 e vado a inserire la trasparenza 50 in automatico tutti questi layer qui andranno a finire nel filtro che ho creato prima vedete che diventa anche più trasparente tutti i labrati sono meno evidenti poi faccio un nuovo filtro proprietà un sottofiltro della ctr che lo chiamo ctr di stati off anzi lo chiamo qui andrò ad inserire tutti quei layer che non mi servono io ad esempio so che tutti i layer di colore giallo di colore magenta e di colore ciano e poi continuo ancora di colore bianco metto anche il 255 vado ad inserire ad esempio quelli di colore arancione con il numero 20 poi tutti i layer che cominciano con il numero 16 quindi vado ad inserire 16 poi ci sono anche altri layer che io so naturalmente ho visto prima che non mi servono li vado ad inserire all'interno di questo filtro ctr off cosa faccio? poi una volta creato il ctr off vado a cliccare il tasto destro visibilità off vedete che posso anche congelarlo volendo io faccio off e spengo tutto ciò che non mi serve naturalmente in questo modo ottengo cosa faccio? vado ad alleggerire il file di autocad vado a renderlo meno pesante naturalmente noto che ci sono degli oggetti che ancora, dei dettagli che non mi servono quindi cosa vado a fare? ho visto che inizio per n2 vado a mettere all'interno del filtro n2 vado ad aggiornare, vedete che non scompaiono, devo di nuovo il tasto destro visibilità di nuovo off e quegli oggetti con n2 iniziale vanno a scomparire insieme agli altri perché fanno parte del filtro ctr off adesso vado a copiare il progetto, vado a copiare la pianta del piano terra all'interno del file della ctr, come vedete anche qui ho numerosi layer vado ctrc per copiare, ctrlv per incollare, vado ad incollare all'interno dell'otto che ho selezionato precedentemente e vado ad inserire appunto il progetto anche qui, se io dovessi gestire il mio disegno, il mio progetto vedete che compaiono tutti i layer, in questo caso seleziono il ctr off compaiono tutti i layer del ctr off, se vado a selezionare ctr, vedete c'è la spunta verde dove c'è il filtro quando vado ad aprirmi una tendina mi compaiono tutti i ctr adesso vado a fare un nuovo filtro che ho scritto, che lo vado a nominare al progetto e metto che tutti i layer con pr iniziale vado a finire all'interno di questo filtro in modo da poter gestire in modo più facile i layer che fanno parte appunto del progetto in questo caso di questa pianta con le quote e gli arredi e gli altri layer adesso ad esempio io qua posso gestire naturalmente i layer del progetto e anche aprendo il menu a tendina vedete che non compaiono tutti i layer tutti gli altri layer ma compaiono soltanto quelli del filtro progetto qui ad esempio posso poi andare a disattivare, ad esempio le quote non mi servono non mi servono gli infissi, non mi servono gli arredi e neanche i sanitari dopodiché vado a fare, questo qui naturalmente è solo un esempio vado a ruotare leggermente il progetto per adattarlo all'otto vado a fare anche delle copie simuliamo come se fossero delle villette a schiera che in realtà non lo è questo qui è un progetto di una casa a torre di uno studente che mi ha gentilmente prestato e vado a fare delle copie per riempire un po' il lotto dopodiché adesso tocca invece alla carta del sole adesso devo andare ad inserire il diagramma polare nella carta del sole all'interno del file della CTR e del progetto anche qui naturalmente la carta del sole ha i suoi layer CTRL-C, CTRL-V e la vado ad incollare d'incirca sopra il lotto di riferimento cosa andrò a fare? naturalmente andrò a fare un nuovo filtro vedete che qui adesso non riesco a gestire se faccio ad esempio tutti e per andare a trovare i layer della carta del sole dovrò andare sul filtro tutti cioè quindi nessun filtro in automatico avrendo il meno tendina vado a trovare tutti i layer di tutti sia progetto sia CTRL quindi vado a fare un nuovo filtro che lo vado a nominare carta del sole e metto che tutti i layer con scritto cs iniziale vadano a finire all'interno di questo filtro vedete? così ho fatto in modo da gestire ancora in modo diciamo più semplice anche questo altro elaborato questo qui appunto è il comando filtro poi c'è un altro comando che è il filtro gruppo in realtà questo qua è un vero e proprio gruppo cioè non vado a fare un filtro tramite delle proprietà come abbiamo visto prima dei colori o piuttosto che dei nomi questo qui è un semplice gruppo posso andare a prendere i miei layer e con drag and drop prendere il tasto sinistro e trascinarle all'interno del gruppo in questo modo qui posso raggruppare diversi tipi di layer anche con caratteristiche differenti naturalmente non necessariamente con una caratteristica in comune come la trasparenza o piuttosto che il colore questo qui è un semplice gruppo di layer un altro invece comando interessante è il gestore degli stati dei layer qui esempio vedete in questo momento io ho questo stato qui dei layer c'è la CTR c'è il leggermente trasparente e vado a impostare che questo stato qui me lo vado a salvare ok? perché questo stato è quello adatto alla stampa ok? se adesso vado ad esempio ad attivare tutti i layer spenti ok? cioè quello là vado ad attivare vado comunque a fare delle modifiche allo stato attuale dei layer io posso andare a ripristinare il layer che ho lo stato che ho salvato prima tramite il gestore dei layer e in automatico mi ritorna allo stato precedente che ho appunto salvato anche questo qui è una modalità molto interessante per velocizzare sicuramente il lavoro all'interno di AutoCAD ecco vedete che il risultato è quello che c'eravamo diciamo prefissati adesso non ci rimane che esportare in PDF e andare a verificare se la differenza diciamo tra la carta del sole e il progetto è presente rispetto alla CTR ecco vedete in realtà non sono ancora del tutto soddisfatto vedete che la CTR è ancora troppo visibile è ancora troppo marcata tanto che la carta del sole non si vede non si vede bene non viene fuori come dovrebbe essere ecco quindi cosa vado a fare vado ad aumentare ancora la trasparenza quindi apro le proprietà dei layer vado su CTR il filtro CTR che ho creato prima ecco se io non avessi il filtro naturalmente dovrei andarmi a selezionare uno per uno tutti i layer invece in questo modo seleziono tutto cambio la trasparenza da 80 invece di 50 naturalmente il filtro perde tutti i layer perché avevo impostato la trasparenza 50 sul filtro quindi vado ad impostare 80 sul filtro in modo da recuperare di nuovo i layer all'interno del filtro vado ad esportare e a verificare se con 80 il risultato è migliore rispetto a prima ecco vedete che adesso il risultato è differente ok andiamo a vedere appunto ecco vedete adesso ci siamo bene ragazzi e ragazze vi saluto spero che sia stato tutto chiaro ci vediamo al prossimo al prossimo tutorial a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti